Nuovo capitolo della nuova edizione di Detto Fatto, l'amato show pomeridiano di Rai 2 dedicato al tutorial. Dopo un primo capitolo scritto dalla spumeggiante Serena Rossi, torna la titolare del longevo format, colei che lo ha attestato e cresciuto, Caterina Balivo. Dopo un breve periodo di maternità, quindi, Caterina torna alla conduzione di Detto Fatto, per Serena, invece, si aprono le porte di Rai 1 condurrà il nuovo programma del sabato sera. Dal canto nostro, invece, continuiamo a documentarvi le opere dei cuochi più capaci e creativi, che, attraverso pratici tutorial, intendono formare gli spettatori più volenterosi. Eccoli, di seguito.